La Lazio è in vantaggio per una zera avendo segnato al nono minuto del primo tempo con Chinalia, 15.000 spettatori tra i quali molti laziali, è stata la Lazio in apertura a manovrare con maggiore disinvoltura ed infatti è passata al nono, sempre immutato il risultato con la Lazio in vantaggio per una zera avendo segnato al nono del primo tempo con Chinalia, in questa apertura di ripresa il Vicenza sembra essere migliorato, è il 22esimo e 30 a Vicenza la Lazio ha raddoppiato al ventesimo con Receconi ma non abbiamo ritenuto di dover interrompere i colleghi, dove mancano 4 minuti alla conclusione la Lazio è passata sul 3 a 0, anche in questa occasione non abbiamo ritenuto di dover interrompere i colleghi in quanto a segnare era stata appunto la squadra ossa.